l'argentino, poi si ferma ovviamente non ha nessun motivo per accelerare le operazioni la squadra di Cooper fa girare saggiamente il pallone c'è spazio per O'Kan, attenzione pericolo per Newcastle, O'Kan e c'è il gol, il terzo gol dell'Inter ha segnato Crespo e probabilmente l'Inter chiude qui la partita terzo gol dell'Inter l'espressione di Given è un po' il simbolo di quanto sta accadendo adesso al Newcastle davvero partita probabilmente chiusa grande azione di O'Kan sulla destra saltato un avversario raso terra per inserimento di Crespo che firma il suo nono gol in Champions League straordinaria la media dell'argentino che ha segnato un altro gol d'attaccante di razza sin troppo facile ma era stato bene il movimento ad anticipare il suo controllore rivediamo O'Kan e poi l'anticipo di Crespo che fulmina Given e qui finalmente sorride Cooper capisce che ormai la partita è praticamente chiusa 3 a 0 per l'Inter e guardate la media di Crespo 9 gol in 7 partite non senti 受ci